Ben svegliato Non canticchè il zucchero E' super dance, è normale Sette, otto, nove Ma sembra un trucco di porco, eh Qui mi fa un male porco La palestra non fa per me Proprio mai Buongiorno ragazzi Sono le sette e sette del mattino E oggi faremo diventare Jumpy Tech palestra dopo un giorno Però Siccome è presto e dormono ancora tutti qui a casa Scendiamo e vi spiego meglio in macchina Ok ragazzi ora che sono in macchina posso spiegarvi meglio Innanzitutto Ciao a tutti ragazzi La sfida di oggi è molto semplice Dal momento che Jumpy Tech E' un pigro per natura E diciamo che Quando lui si sveglia la mia giornata è arrivata già a metà Praticamente In realtà viviamo con dodici ore di distacco Cioè io l'ho superato di dodici ore sostanzialmente Ho deciso per un giorno di fargli provare la mia routine E quindi la routine del palestrato Quindi già siamo in ritardissimo Dovremmo essere già in palestra Alle sette e quarantadue Invece sono ancora qui che lo devo andare a prendere Ma lui non mi risponde al cellulare Perché starà sicuramente ancora dormendo Quindi corro a casa sua Lo butto giù dal letto Gli do due schiaffi di quelli sistemati E poi inizieremo dalla colazione Ecco perché questo video come potete vedere E' in collaborazione con Bullpowder Azienda con la quale sono felicissimo Di annunciare che ho iniziato a collaborare Ma era in italiano questa frase Comunque è un'azienda di integratori e alimentazione sportiva Ma non solo Ma vedrete oggi Perché vi farò vedere delle chicche Veramente molto molto particolari Tutti i prodotti che vedrete oggi In questo video Se vorrete Li potrete acquistare tramite il link in descrizione E io mi sono appena accorto Che ho sminchiato ancora di più questa fotocamera Andiamo a prendere Jumpy Tech Vi spiegherò più avanti Buongiorno principessa Penso di aver fatto la clip più divertente I ultimi 107 anni E' tardi Giampiero E' già tardi Forza Lo sai che oggi abbiamo una tabella di marcia E tu non la stai rispettando Ecco vedi Ti rimesso pure la sveglia Ma io sono arrivato prima della sveglia Ben svegliato Buongiorno e benvenuto nella tua prima giornata da palestrato Ok ragazzi ovviamente La giornata del palestrato Ah buongiorno anche a te Principessa Lei già sta facendo colazione Quindi è giusto che la facciamo anche noi Jumpy Chi minchia ti ha fatto entrare? Tuo nonno Ma pur volendo Ma ormai entro da solo Cioè Che cazzo cambia? Ovviamente la giornata del palestrato Non può non iniziare Con una sana e proteica colazione Allora per la nostra colazione di oggi Che dovrà essere una colazione sostanziosa e completa Aspetta Non è ancora Non è ancora il momento Non è Ci serviranno Un preparato Eh Giampiero Dobbiamo essere attivi di prima mattina Guarda che il tempo è allenamento Sono calorie che non stiamo bruciando Aspettando Ci servirà Un preparato per pancake Così diciamo Per te che sei pigro È la cosa migliore Ma che buona di pancake Bravo È stato proteico però proteico E lo andremo poi a coprire Con una copiosa Con una cascata di burro d'arachidi Della bulk powder Stavo dicendo una cosa che non si può dire Iniziamo È sempre bello aprire un nuovo pacco di pancake Allora Ce ne servono due misurini Ciampiero No Ce ne servono quattro Perché siamo in due Guardi Che bella Uno Porco due Non la so Facciamo un cassero di salve Due Tre E quattro Perché dobbiamo crescere Ma dobbiamo mettere Adesso dobbiamo mettere acqua Quanto Cubi Cubi Cento e belle l'acqua Per dei miei sorini Quindi due cento e belle Ci siamo due cento e mele Adesso andiamo a versare copiosamente la nostra acqua Oggi ti piace la parola copiosamente A quanto vedo Una frusta Ma questo lo dovresti fare tu Perché in realtà Andando girando Incomincia ad allenare È il riscaldamento di avambraccio questo È veramente tardi Gian Piero Manco le otto sono Me lo riscacca la minchia Sono le otto e dieci Alle otto e dieci Eh la palestra alle nove apre per noi Apre un'ora prima solo per noi Ma che cazzo di fare un pancake a fare Allora il mio pancake Che è un po' più consistente Sta cuocendo Quello di Giampi Un po' più piccolino È pronto Guardate che bell'aspetto che ha Anche se c'è un po' odore di pollo Chissà perché Ma perché ci sono le proteine nobili del pollo Sto scherzando Però adesso È il momento Questo ragazzi È il mettere Dei di tutti I palestrati E non Difatti Questo Lo potete mangiare anche Cioè così Al posto magari Di una crema spalmabile Guardate che consistenza Giampi Facci sapere com'è Questo è superdesso È normale Certo Perché questo Non è come quello che compra Il supermercato Non si stacca È venuto perfetto È venuto una torta È questo il problema Dentro sarà crudissimo No sai Ciò poi ne l'ho messo Dai dai Ti serviranno energie Per oggi Adesso col calore del pancake Lui si andrà a sciogliare Che non è più caldo Perché l'abbia fatto mezzo Prevedo del food porn In questa ripresa Ma dai Non me la passate Così sento male Hai visto Ho visto Perché il mio intento di oggi È farti diventare un palestrato come me Questo davvero Che cosa ci prendiamo Giorgio Un po' di Acqua Non solo acqua Un mattino acqua Un caffè 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 Va bene Un caffè 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 veramente imbarazzante però faccio una macro sul tessuto così capiamo che è file ecco così si vede allora iniziamo con un po' di riscaldamento guarda intanto che bello tutta la palestra sola ringraziamo tantissimo l'oxygen gota per averci ospitato quest'oggi iniziamo col tapirulano dai vieni iniziamo una cosa sotto va bene te lo mettiamo già sono stanco per venire da quel punto a qua ma tu non fai un cazzo io seguo te ti faccio da personal ma tu fai qualcosa ti faccio vedere come si fanno gli esercizi ti aiuto un po' di inclinazione che tanto tu abiti in montagna e quindi sei abituato adesso ti fai una mezz'oretta di cardio e poi iniziamo l'allenamento vero ehi niente di vero va non è che sei andato in miniera va bene dai può bastare fai il tatto di emergenza piano 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 come ti senti come ti senti dopo questi 20 minuti di tapirulano mi chiamò l'apple watch per i battiti beh davvero dovevo controllare i battiti effettivamente dobbiamo fare un po' di riscaldamento di attivazione articolare di tutti gli archi allora facciamo un po' di ma gli aspetti di carl di carl chi è carl? carl è un mio amico che faceva sempre difficili e allora gli hanno dato il nome dell'esercizio c'è un po' di carl con i manubri anche alternato no l'espressione per favore però così non alleno nessuno mi devo guardare ho un'espressione intelligente o niente o così motivata guarda dritto comunque gli specchi sono guarda dritto e sta in silenzio che dobbiamo fare un motivazionale ah ho capito ciao michael vai sti fiero di me quanto deve durare questa cosa? ok basta 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 cosa che ti dà fastidire la pacca? questa cosa che si avvicina quando tu lo dici mi rispettavo il petto non hai lento non ti sento un po' però ti strozza ma che ti strozza un po' al massimo ci sono io no ma non ci stai mettendo mettiamoci un po' dai 5 kg per l'alto e tu diventa 30 allora dobbiamo fare dobbiamo fare un 3 per 10 ok quindi classico no aspetta 10 puoi fermi 10 puoi fermi si si dai allarga queste braccia da pollo che hai pronto? no fra 3 no fra 2 ma tu stai fermo lascialo ma non lo puoi ma qui non è ovvio che tira queste braccia tendile verso il petto verso il petto ma dove vai? verso il petto incompetente cazzo non puoi farlo in bocca se no che petto hai se lo fai in bocca è bocca è bocca vai verso il petto ma che cazzuone ne prendi le giunture bloccate scendi ma guarda che merda di braccia che hai poi ci sono 5 kg per l'alto fai cazzuone di questo io sapevo che facessi schifo però non lo immaginavo fino a questo punto ora giampirino alza di mano sempre con questi pesi rossi che almeno non sono rosa difendo la tua mascolinità sei parti da qui stendi non troppo vedi che c'è sempre un po' di vedi qua che c'è sempre un po' di volume no di piegatura e apri così ah ancora è un po' di 50 vedi così i dumbbell flies lo si sono vedi perché se cerchi di volare voli verso il tuo obiettivo e adesso apri ok oh guarda che l'esecuzione di questa non è male hai alcuni esercizi che sono innati in te tipo lo squat forza vai uno chi ha visto a questo il tuo gesto in te hai saputo due tre quattro c'è che fai che sono isolato cinque sono barba di merda nove col petto devi salire dieci undici dodici tredici vai così ma come ne mettiamo come ne mettiamo questo volume se continuiamo così basta lo squat è un esercizio fondamentale guarda che non sei male questo diciamo che no però c'è una cosa fondamentale i talloni devono stare ancora più a terra quindi allarga le gambe questa regola mi mancava mettiamoli magari sulla stessa linea sono palesemente ok e adesso devi scendere come vi hai fatto prima no questo non serve faccia così ti mettono un bambino ma così lo fanno le ragazze però se vuoi va bene sembri una scimmia però così se le fai tendere in braccio dice ok ora si vai vai delizie ci ti prego ahhh minchia che donna che stacco di coscia aspetta che devo fare una macro sulle guarda che si sta attivando il gluteo guarda vai scendi e strizza ricordiamo che questi sono di tua madre questi pantaloni questi pantaloni lo specifichiamo esatto Giampiero Giampiero si che cosa fai ti nascondi si dobbiamo fare i dominali no dai no forza che stai abberrando no mi tocca bravo allora alzati adesso Giampitec dobbiamo fare l'addome perché quest'estate non puoi fare delle foto perché tutto ciò lo stiamo facendo per arrivare in forma entro quest'estate quindi con un giorno di allenamento a me no questo è l'inizio del tuo allenamento ah certo allora si mani dietro la nuca bravo culo ben saldato a terra certamente e cominci e cominci con un movimento diciamo un po' soft quindi alzi e cominci a fare uno due che è il tuo qualità tre quattro cinque sete uno uno dieci uno due tre due due tre tre due dieci un più o meno a questa velocità lo devi fare sei pronto? no tra così no queste gambe di merda fino a con le griglie ok come è che stai facendo partorie spinga signora spinga adesso devi andare a incrocio quindi questo movimento dovevo traccare questo questo con questo vai questo cosa significa incrocio ok forza devo fare io ti guardo vai giochiero iniziamo uno due no cazzo la coordinazione di similizzazione vai schifo uno due tre quattro sembri un gatto quando vieni investito e ha le compulsioni prima di morire vai ma ti giuro che sto a fare altro una vita cinque sei vai sette otto nove sei un caso umano io ti giuro che se ti trovessi davvero scopi in palestra gli strutturi si mangerebbero le mani non so adesso dobbiamo vedere se il frutto del nostro allenamento ha reso o meno qui alziamo le maniche allora guarda che non si sono messo male prima cosa ovviamente dobbiamo vedere se l'allenamento di queste braccia ha funzionato quindi carichiamo devo caricare questo è caricato esci il petto e chi lo so resta così resta così in tensione ma no sono a punta sembra un vulcano di Fortnite ma questo non lo devi controllare mai questo devi controllare questo è più duro visto trinciamo i bicipiti c'è pronto uno due tre resta così resta così resta così esatto e anche il posing ce l'abbiamo Gian Piero fammi vedere cosa stavi guardando prima aspetta che apro stavi guardando lui e cos'è che hai detto dimmi un po' ripeti un po' è il tuo telefono era il mio telefono ma scorrendo Instagram ma cos'è che hai detto è arrivato a lui voglio diventare come lui però in questa foto perché nella c'è sembra un panzone comunque siamo al supermercato e adesso andremo a comprare il lunch perché la merenda la faremo con un bello shaker di proteine e qualche galletta per integrare un po' di carbo ma chi merenda in me? la mia merenda è un pezzo di pane con la nutella ma 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 Gian Piero siamo fit oggi siamo fit? certo andiamo a comprare il lunch cosa compriamo? chicken and rice ragazzi dopo esserci allenati ora ovviamente siamo arrivati comunque così da Atom per prendere delle clip di puoi mangiarlo quello con merrino quindi che è già uscito mi sono male il bravo mi sono male qua è normale è normale ma soprattutto adesso è il momento della merenda quindi ci faremo uno shaker a testa di proteine queste tra no fra ma che cazzo dici una testa no fra uno shaker a testa di proteine queste sono sempre della Bulko ovviamente trovate tutti i link in descrizione queste sono buonissime ragazzi al chocolate cookies vedete e poi volevo fare assaggiare a Giambi take una chicca cioè pizza vuoi che buona raga queste sono le migliori macro crunch barrette che ho mai assaggiato in vita mia sono veramente allucinanti dai ti prego faccio un taste test live crumbling cookies and cream queste ragazzi sono delle barrette proteiche che potete tranquillamente sostituire durante uno snack magari al pomeriggio a metà mattinata e le potete sostituire magari alle barrette quelle un po' ciccione perché vi assicuro che adesso lo vedrete ma infatti le compro pure io se sono buone ti giuro che sono allucinanti guarda cioè io mangio come un porco però mi mangio questo e il cazzo cambia dai ma non me lo passate male per quale strada aspetta fammi vedere il da ma cioè raga cioè è troppo vastata è spaziale dai un morso guarda dentro com'è adesso buona è spaziale guardate quanto è bella dentro mamma mia questo è porno questo è pornissimo ok mentre Giampietec si fa credimi che è stata di pandoro è buonissimo come fa credimi che è fantastica sta barretta siamo arrivati ad ora di pranzo ragazzi e quindi dobbiamo andare a cucinare un piatto sano ma nutriente quindi andiamo a vedere cosa sta facendo Giampietec in tutto questo dobbiamo cucinare Giampiero il pranzo è un momento molto importante quindi dov'è la spesa che abbiamo fatto? sparsa per casa un pollo e il riso il riso però no mentre il nostro riso cuoce mentre mentre il nostro riso cuoce Giampietec con un bellissimo una bellissima insalata con 30% ma ciò l'ho fatto il 30% di sconto alla cassa spazio? non lo so spazio spazio facciamo la nostra insalatina che andrà a accompagnare il fantastico pollo che ancora non sappiamo bene dov'è e soprattutto come lo faremo piastrato piastrato con un pochettino di sale non si dovrebbe però di formaggio un po' di formaggio un po' di letto di formaggio com'è andata questa giornata? Giampietec questa mezza giornata perché poi la cena me la risparmio perché poi di pomeriggio allora questa sera sei di comunione tanto non ti ascolto quindi sei di compleanno si mangi lì? si allora questa sera ti fai fare 200 grammi di pesce bianco arrostito o al forno e anche lì un po' di carbo li dobbiamo mettere già qua stiamo caricando tanto facciamo 60 grammi di riso mi porto le galletore a letta non faccio prima va bene questa giornata con Giampietec finisce qui ma così? eh tanto vabbè finito come l'ha dovuto prima? di pomeriggio ti fai ti fai 100 grammi di petto di tattino bisogna avere sempre una dieta varia la gallanta tutti i prodotti che avete visto oggi ragazzi ve li lascio in descrizione quindi il burro da raghi di mmmm viene già la culina a ripensarci le proteine le proteine le barrette che avete visto goduriosissime esatto adesso te ne lascio un paio e mi raccomando lasciate like perché tra qualche giorno forse settimana prossima uscirà un altro video dove riconosceremo il cibo pit contro il cibo set io prendo quella fat detto questo ragazzi mi raccomando siate grossi sempre ciao ciao ragazzi sono Giampietec scusate ma mi è esploso un occhio non so che cazzo c'è in quest'occhio siamo al giorno dopo ah porca della mia siamo al giorno dopo del video della palestra mi aspettavo più dolori in realtà mi aspettavo più dolori però mi fanno male questi sono i miei muscoletti piccolissimi qui mi fa un male porco infatti se lo toco ah porca della mia se lo toco mi fa tipo malissimo tipo ah porca della mia qui mi fa malissimo qua no ma qua si un sacco non so perché e poi raga saranno stati quei 22 minuti di tapirolan o forse quella serie di squat ma mi fa male tutta questa parte qui raga c'è tutta questa parte di gamba mi fa malissimo no vabbè è indecente raga non si può capire la palestra non fa per me proprio mai all right now no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè